I've been having dreams Jumping on a traveling Wella raga come vai? Sarawai? Bentornati nel mio canale per questo nuovo video su Destiny Oggi in questo video io voglio invitare a partecipare alla Guardians Cup E' il primo torneo che decido di fare finalmente sul canale Avevo già in mente qualcosa del genere su Destiny 1 ma poi non ho fatto mai niente Visto che adesso ci sono le private e da tanto tempo ormai ho deciso appunto di fare questo torneo Cos'è la Guardians Cup? E' un torneo 1v1 Composto da 32 giocatori per PlayStation 4 Inizialmente lo farò appunto su PlayStation 4 ma sicuramente come ho già detto su Instagram Se il tutto andrà per il verso giusto come spero e mi auguro che succeda Ci sarà la versione identica per Xbox One Andiamo a vedere bene lo specifico intanto come fare a partecipare tra Instagram, Telegram Ci sono tutti i link in descrizione raga seguitemi su questi social perché ci saranno le news giorno per giorno Per quanto riguarda appunto l'organizzazione del torneo Ma vi dico subito che per partecipare basterà commentare qui sotto con un hashtag Così io lo vedo perché dovrebbe cambiare colore il commento Con il vostro nickname e il personaggio che andrete a usare Vi ricordo che una volta scelto il personaggio io per motivi di grafiche Perché vi farò una grafica personalizzata in base al personaggio che andrete a usare Non potete più cambiare il personaggio Quindi se decidete di usare il cacciatore, il titano, lo stregone Quel personaggio poi alla fine nel torneo dovete per forza di cose usare La prima parte del torneo si svolgerà venerdì 25 gennaio In cui ci saranno i sedicesimi di finale Però queste partite raga io non le streamerò Quindi giocherete con tutta tranquillità Deciderete col vostro avversario la mappa E l'orario a cui giocare appunto con tutta tranquillità Magari se qualcuno streamerà io mi vedrò quella partita Ma non farò nessun tipo di live su YouTube Il tabellone sarà deciso all'inizio quindi saprete già più o meno contro chi giocherete il turno successivo Se andrete avanti perché non sarà diciamo un sorteggio random turno per turno Ma ci sarà un tabellone preciso che poi metterò su Instagram Condividerò sul gruppo Telegram Ci sono tutti i link in descrizione Seguitemi perché è molto importante per non perdere Soprattutto i partecipanti per non perdere nessuna news Riguardante appunto il torneo Quindi venerdì da 32 giocatori ne rimarranno 16 Quindi eliminazione completamente diretta Le fasi finali quindi si svolgeranno sabato 26 gennaio Dalle ore 14 in poi Poi vedrete che ora vi toccherà giocare Perché ci saranno dollari predefiniti Raga se no viene fuori un bordello Perché io mettete conto che partita per partita Devo preparare le grafiche per diciamo il match dopo E quindi mi serve partecipazione massimo da parte vostra Perché comunque potete capire che essendo da solo È molto difficile organizzare una cosa del genere Cosa più importante raga che sabato sarò in compagnia di RedLeo e Luga dei FolliLights Che conoscete tutti benissimo Per commentare le fasi finali in streaming Quindi si tutta la giornata di sabato Dalle 14 in poi saremo in live Per commentare gli ottavi di finale I quarti di finale La semifinale E la finale Che avrà una particolarità rispetto a tutti gli altri match Ovvero sarà meglio dei tre Quindi sarà una battaglia senza senso Perché mettete che uno vince una partita L'altro vince l'altra Quindi si va uno a uno E si farà poi la bella Perché succederà veramente il putiferio Sarà qualcosa di assurdo Ovviamente raga chi vincerà la finale Vincerà anche un premio Che ancora non ho deciso quale sarà Ma sarà ovviamente qualcosa di inerente A Destiny Sto ancora scegliendo Comunque raga la partecipazione è gratis Quindi questo è qualcosa in più Che però ci sta essendo un torneo Anche bello Comunque che Chi vince Ottenga qualcosa di materiale Qualcosa anche appunto Inerente al gioco Dove Dove è stato svolto il torneo Volevo dare un premio ai primi tre Quindi al terzo in classifica Al secondo Ovviamente al primo Però raga per motivi esclusivamente economici Non posso farlo Sperando che magari nel futuro Magari crescendo col canale Ci sarà qualche sponsor Qualcosina Che aiuti diciamo Il canale a dare i premi Al terzo Al secondo Al primo Che diciamo Di solito si fa così Però appunto Per motivi economici Si beccherà il premio Solo Chi riuscirà a vincere A sconfiggere Tutti i suoi avversari Come funzioneranno raga Le streaming In pratica Vi chiedo gentilmente A chi giocherà Di streammare le partite E andrò a switchare Telecamera Quindi Ci sarà un diciamo Una cosa un po' dinamica Un po' di azioni di uno Un po' di azioni dell'altro Almeno il tutto Un po' appunto Più dinamico E molto più figo Cambio rinquadratura Nel caso qualcuno di voi Non avesse twitch Comunque può partecipare Lo stesso Basta che uno dei due Della partita lo abbia Perché altrimenti Cosa streammo Non streamerei niente Quindi almeno Uno dei due Della partita Deve avere twitch Soprattutto sabato Venerdì raga Non dovete streammare Se volete streammare Me lo dite Mi guarderò appunto Qualche partita Ma non farò Come ho detto prima Nessun genere di live Quindi raga Mi aspetto massima partecipazione Da tutti quanti Mi servono tutti i canali twitch Disponibili Per preparare al meglio OBS con le streaming Perché se no Arriviamo in ritardo E viene fuori una schifezza Non voglio che succeda E quindi Vi chiedo gentilmente Di scrivermi su instagram Qui sotto Dove volete Raga In base al vostro nickname Anche il canale twitch Così andrò a seguirvi Per prepararmi al meglio Poi sabato Quando streamerò Le partite Appunto insieme a Leo E a Luga Ovviamente ho deciso Di bannare alcune armi Che avrebbero reso Il torneo abbastanza Cancerogeno Diciamo E monotono Le armi in questione Sono il telesto Quindi raga Scordatevelo Non si potrà usare Per nessun motivo Al mondo Il telesto Poi il fendionde Questa è un'altra cosa Che non potrete Appunto Usare Con il fendionde Intendo anche la lente Di prometeo E il cuore gelido Anche se si usa Praticamente solo O esclusivamente In questo periodo Il fendionde Come ultima arma Ho avuto il dubbio Fino all'ultimo Ma poi mi sono consultato Con Pollo Che saluto Su Instagram Che giustamente Mi ha consigliato di toglierlo Sto parlando E l'ululato alla luna Del suo fratello maggiore Per non dimenticare Che sono praticamente La stessa cosa Perché raga Andrebbe a usare tutti quelli E poi ovviamente Chi non ce l'ha svantaggiato Perché sono ovviamente Molto più forti Questo è per rendere Il torneo Molto più vario Di armi E di abilità Da usare Perché altrimenti Raga Uno usa sempre Le stesse cose E il torneo diventa Un'ululata alla luna Contro un'ululata alla luna Ultima cosa Che giusti di togliere Un pezzo esotico Del titano Sto parlando Per chi ce l'ha Del monocchio Perché rigenera Quello scudo Raga Abbastanza fastidioso E quindi giusti di togliere Per il resto Raga potete usare Qualsiasi cosa Piccola dimenticanza Molto importante A dire la verità La mappa D'aiottavi in poi Quindi le partite Che si svolgeranno sabato La sceglierò Io con un metodo Random Con un programmino Anzi non sarò Veramente io a scegliere Sarà sto programma E appunto Inserirò tutte le mappe Andrò a pigiare Quella che uscirà Capiterà Quindi non la sceglierete voi La mappa Vi ricordo che la sceglierete Solo nella fase Iniziale di venerdì Quindi la prima partita Che farete Del torneo Sceglierete la mappa Per il resto Ci penseremo noi Con i programmi A decidere dove dovrete Darvi battaglia Per diciamo Raggiungere il livello Successivo Per sperare Mi auguro per voi Di arrivare in finale E vincerla chissà Per chiunque raga Voglia partecipare Vi ricordo che sono disponibili Ancora 22 posti Gli altri 10 sono riusciti A prenotarsi su Instagram Telegram O comunque Sono già segnati Quindi non si dovevano preoccupare Gli altri raga Qui sotto Con un hashtag Su Instagram Su Telegram Mi facciano sapere Se vogliono partecipare Il nickname Il personaggio A questo punto Aggiungetevi anche il canale Twitch Che agli altri chiederò Io In privato Molto molto easy Così in questi giorni Tanto non è importante L'importante è che mi diciate Tutte queste informazioni Perché poi Sto preparando le grafiche Quindi sarà veramente qualcosa Di assurdo Vi ricordo di seguirmi su Instagram Perché lì Ogni giorno Da quando tutta la lista Di partecipanti Saprete già contro chi giocare Ogni giorno pubblicherò Due Tre Adesso vedrò Quante partite Con le grafiche fighe Sulle storie Adesso vedrò come farlo Ma appunto raga Instagram e Telegram Ci sono tutti i link In descrizione E' gratis Seguitemi Lasciate un bel like a questo video Se l'idea vi piace Noi ci vediamo presto Con un prossimo video Condividete Iscrivetevi al canale Se nel caso Non lo aveste ancora fatto GG da Rewind Bella raga